Sto per fare una kill Ok, uno è quasi morto Ah, poi del cedemi Non voglio morire Eeeh Bene a tutti ragazzi, qui è Bello, c'è Dio di che vi parla E siamo un nuovo video di Eeeh, fammi scipazzare FANNOI Eccomi Fix me Mario Raga, ma è meglio andare Raga, ma è meglio andare alla stalla, no? No Dove, Ale ha detto io che ci stanno in due cose che non ti pensano salti e spring Salti e spring Il cottage è mio, la billetta E la torre è mia La torre, voglio salirci pure io Ti chi sei? Eccoti Franci, ciao Ciao Tutto bene? Saluta Antonio Eeeh Sono caduto C'è una valigetta di colpi Eeeh Del bazooka Oh, grazie Io sono silenziata E' capito la tua scaracca Puri voglio trovare una scaracca Torre? No, noi la stiamo sotto la torre Ma c'è la mia saputa qua, io sei che c'è Si, sta qua su Eccola Uh 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 Dai, dammelo a me il cecchino Ma dai Questo è quello che si chiede da usare, allora Voglio io il cecchino, allora possiamo fare la base, però Ragazzi, già possiamo fare la base Ale ha le munizioni Io? Fog? Io? Si, ce l'ho abbastanza Eh, su E' un'altra testa Sì, la lasciate Sì, ragazzi, però se vuoi Raga, qui c'era un sacco di materiali Qui c'erano un sacco di materiali Io sto andando nella casetta Qui vicino Oh, venite sotto, che c'è Oh, è entrato una scaracca Dov'è la cassa? Raga, è entrato una scaracca Dai Ah, di vero Chi è che si è ammazzato? Da solo A me che l'ha ammazzato Ti hanno colpito o sei caduto? Mi hanno fatto cadere Ma la caracca la bevuta, eh Grazie, la davvero Mi ha fatto spiegare una Ah, ah, ah Io c'ho uno scudo Però è di quelle La gra... Ale, Ale, Ale Ma che coppia è questo? Non mi voglio Oh, andiamo qua, andiamo qua Aspettate, Raga Raga, io c'ho due... Raga, io c'ho due... Raga, io c'ho due... Raga, io c'ho due... Stai registrando? Sì, sto registrando Ok Ehm... Fra, zitto tu Zitto Vieni che c'ho una cassa Vieni, che c'ho una cassa Ti abbiamo lasciato una cassa Raga, mi è successo un bug Dove? Mi avete rianimato voi Raga, mi avete rianimato Sì Eh, è un certo di vita Senza aver prenduto la palazza Un certo di scudo Raga, a me mi sta baccando tutto Sì, io mi butto... Dai, io c'ho due... Ragazzi, io mi butto giù Mi rianimate? Ale, stai registrando? Sì Stai registrando Stai registrando Vai qua Aia Aia Beh... Ma a me avete fatto uno scherzo Eh? No, l'ho scarato No, l'ho scarato No, l'ho scarato No, l'ho... Ti dà la pistola silenziata Eh Tieni, tieni Avete la taraffa voi? Mille Uh, grazie Oh, mi serve uno scarro, raga Io ce l'ho Eh, io non ho uno scarro in più Eh, io un certo Ok, dobbiamo dare in shape, dai Vesso Il mouse, non la tastiera Sì, Filippo, guardami Il mouse? Bonus Il mouse Raga, aspettatemi Un cecchino Quello coltaccio Il peggiore? Eh, lo puoi dare a me? Lo voglio io Io sono il peggiore Sono qua, sono qua E io ti do quello peggiore Dai, lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io Dai, raga, voglio un cecchino Va bene, dopo lo vediamo Ok, grazie Raga, andiamo subito Raga, andiamo subito Raga, andiamo subito Raga, andiamo subito A fare la base Andiamo più al centro possibile Sei Dai No, 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 no Non l'ho coltita con cecchino Ma ci stanno attaccando Raga, ho il tuo jump Eh, guarda 35 di italia Tieni, tieni, tieni Un attimo, un attimo Le vuole fasce Tieni Sì, vai Raga, ho il tuo jump Se volete jumpare Eh, anch'io ho la jump Io invece ho il cecchino Due Io ho due cecchini Eh, tagliano uno all'altro C'è l'altro mangio C'è l'altro mangio Venite, venite Venite E come facciamo? Venite Come facciamo? Come facciamo? Sì Un attimo Quello c'è bloccato qua sotto Un attimo Facco Dora, ole Ma tu dove sei? Raga, ma avete... Ma avete... Mi ha ribloccato un'altra volta Scusa, non posso uscire, amore Sto venendo, eccomi Eccomi sono entrato, sto muorendo, sto muorendo in safe, mi serve roba, sto a terra Ah sono morto, ciao Dai andiamo al lobby, c'è gente che sta venendo Dai dai fammi venire qua dentro, fammi venire Ok ragazzi ho lo scaracca Sto per fare una kill Ok uno è quasi morto Ah qui del cielo di me Non voglio morire Qui c'è una chest dove sto io Ah Quanti? Veramente è così poco, sì io sto registrando Ragazzi mi voglio mettere, potersi che mi metterò il canale di Franci e Ale in descrizione Io sono l'unico spiegato e tra parentesi che è Ragazzi, ragazzi Ragazzi vado all'autobus Ok adesso lo sapranno tutti i tuoi fan Ragazzi io c'ho una chest qui è l'autobus Wow ragazzi il fucile d'assalto Oh eccola Ale hai lasciato le presenze Le? Aspetta Dove stai Franci? Ah dicevo a te No Ale mi lasciatemi ti chiamo Alessandro Oh fucile a pompa Ale game è qua Raga io c'ho Raga io c'ho la pompa Fortunato No è super curale Ah ok non mi posso curare Raga chi Raga chi vuole qualche arma? Pompagliola Fra mitraglietta Oh pompagliola C'è un'arma leggendaria Vieni qua Ale Ale Cecchino leggendario Raga c'è un cecchino leggendario Raga ve lo giuro c'è un cecchino leggendario Non mi raga non sto capendo niente Vi faccio il pompa se vuole Ok E pure io c'ho la pompa Ale Vieni qua Alessandro Grazie C'ho venti Raga Io c'ho ventidue munizioni Per il cecchino Ma la dai a me qualcosa Non mi fa prassi Ale Vieni qua Ale Ale Una sorpresa per te Ale 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 Io ti do il cecchino Sei temi della palestra Ale ti regalo una cosa bella Ale Come sei Ale Grazie Sono un bimbo felice Grazie Sono un bimbo felice Sì Raga se qualcuno trova tipo qualcosa di bello Una mitragliatrice Magari anche Raga chi gli stavano i colpi per il cecchino Vieni Franci C'hai colpi per il cecchino Franci vieni E sta Cos'hai Ecco Sto qua su Eccomi Ecco Ti sto dietro Raga sapete cosa ho trovato Troppo dietro Raga Ho trovato il fucile da caccia Nuovo Che Ho trovato il fucile da caccia È buono Guarda quanti sono Raga Ho trovato il fucile da caccia Grazie Era mio Mille Riprenditi la palestra Il pompa era mio Ale Alessandro Andiamo in safe Alessandro Ale Il pompa Mattimo dammi quel pompa Dammi quel pompa Io ti do questo Lo scambio è colo blu Sì Vieni fra Raga Dai Io ti do questo Prendilo Oh raga Chi è che ha preso il mio cecchino Franci Mi devi ringraziare Non lo stavo a perdere a nessuno Raga Dove sei? Raga Ho il fucile da caccia nuovo E beh Ho il fucile da caccia Mira Roviveni che è la safe E' qua Raga Venita da me Io sto venendo Io sto andando in safe Pure io Ho preso questa caccia che fa Sì Raga Vedai quel pompa lì che ce l'ha detto Sì sì La palestra Raga chi serve una palestra Raga io c'ho due palestre Una viola E una blu Chi ne vuole una? Oh raga Prendete i colpi Su E me li sono presi io A lui Mi ha i colpi Dammi la palestra Ale Raga qua c'è un pompa Tieni i colpi E la prendi pure Donna citta là Ma non c'è niente là Che ne so Ho sentito C'è stata la sentita Io sentito Una cesta Aprire Io solo a spaccare Mi fa bene Per Il Il materiale Eh raga Per farvi un'idea Io ho dieci Di legno Dieci Di ma No Dai Vieni qua Ale Vuoi fare una cosa figa? Io 81 Balliamo Balliamo Brutto Lercio Perché Mi hai buttato via Bessi 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 Best insulto ever Bessi ma come sei Certo vita Eh all'inizio sono caduto Dovevo venire la cesta E il momento di salvere L'asero Nel sacco Il sacco Raga In tutto questo Siamo le 19 Siamo in 29 Mamma mia Di già Raga Io sto Io sto Raga Io ho 64 Di legna Dobbiamo Prendere Qualche cosa No Allora Che cosa fare Tipo che arrivavo qua Raga Siamo i vecchi Non abbiamo fatto Una mazza Controllo No Ho sperato Basta Carai I grandi I grandi I grandi I grandi I grandi I grandi Non li Distruggete Non vedrete Dove è il drop Controllo Controllo La vita E non ne vedo Uno Dove è dove Sì Non ho visto Sì Non ho visto Sì 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 Sto venendo Sì 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 Sì